Nello scorso consiglio di amministrazione del 15 aprile, il gruppo di azione locale Cilento Regenerazio ha approvato un impegno di spesa per una dotazione finanziaria pari ad euro 5.167.932.000 euro a valere sulle risorse della misura 19.2.1 della strategia di sviluppo locale GAL Cilento Regenerazio SRL, i borghi della dieta mediterranea del PSR Regione Campania 2014-2020. Nel particolare sono stati approvati per i privati 63 progetti pari a complessivi 2.820.000 euro, per i pubblici 40 progetti per complessivi 2.347.932 euro, il totale complessivo di progetti finanziati è pari a 103 per un totale di 5.167.932 euro. Soddisfazione è stata espressa dall'intero team del GAL per l'importante lavoro svolto. Abbiamo dato risposte a tutti gli impegni previsti e programmati, afferma il presidente del GAL Cilento Regenerazio, Mauro Inverso, destinando la maggioranza dei fondi ai privati come da protocollo, offrendo importanti opportunità di lavoro e di miglioramento ad una serie di aziende. Nel contempo abbiamo finanziato una serie di importanti interventi per tanti comuni che vanno a implementare i servizi in numerose realtà del territorio. È da completare solo la cooperazione. Abbiamo lavorato sodo, portando a termine gli obiettivi nonostante la pandemia in atto, non tradendo la fiducia come nella precedente programmazione. Si chiude così una fase molto importante che ci ha visti concentrati sulla misura che comprende la gran parte della strategia ai borghi della dieta mediterranea. Poiché siamo abituati però a guardare sempre avanti a nuovi progetti e nuove sfide mi preme sottolineare che nel futuro prossimo ci concentreremo sul segmento cultura che riteniamo determinante nello sviluppo territoriale del cilento.